Grazie al commento di Empoli Juve, se questa Juve deve far paura che ha rischiato di prendere gola all'ultimo istante dall'Empoli con un salvataggio, non si sa come ha fatto Gatti a salvare, questa Juve è stata ridicola come la Juve di Allegri insomma, e allora non si può avere paura di questa Juve ragazzi, non si può avere paura di questa Juve, l'abito sta per fischiare, Empoli 0, Juve 0, fischia, bravo, bravi Juventini che avete fatto 2-0-0, spero, disperatevi, andate a cagare nei vostri cagatoi, nei vostri levatoi, grande Empoli, Motta ha fatto dei drink, e sta insieme a casa come non mai, la Juve ha fatto cagare, l'ho vista tutta, volevo fare proprio un commento sulla partita, Tiago Motta breve su Sanlegri, beh la Juve stasera ha fatto veramente poco e pietà, se vi piace Tiago Motta, a me piace, la Interista spero che rimanga lungo così, credete tanti tanti punti, se non si vince Empoli, bye bye!